Allora, è arrivato il 7.30 precompilato? No, non arriva a casa, lo devi scaricare da internet. Ma allora scaricalo! Ma fai facile, ma devo scaricare il PIN? Oh, che meraviglia, pensa che dopo sarà tutto fatto. Ma voilà, un altro pezzo di PIN mi arriva per posto, devo metterli assieme, devo compilare un sacco di dati. Se sbaglio, prendo la multa. Basta, vado al CAF. Dov'è che vai? Al CAF CGL! Il CAF lo sa come si fa. Vai sul sicuro, rivolgiti al CAF CGL. Il CAF CGL!